dato, si è improvvisato veramente il punto faro del Verona, hai capito? Sì, 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 esatto, questo, no no, questo, su questo, cioè su questo fatto di questa nuova sua esperienza, questa Verona, portarlo in questo, sentire, adesso lo sento, lo sento, lo sento, sì, a Pisa, ostia, prova a vedere in caso di me la mattina mi dai un aggiornamento verso, verso, beh, beh, appena arrivi, o anche, sì, ma voi avete i vostri archivi, hai capito? Statistici, ostia, eh, dimmi caro, sì, dai, ok, perfetto, va bene quello lì di oggi, quello lì del basket, sì, sì, va bene, dai, ok, ciao, 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 Ho un quarto via? Sì, grazie, sì, che non su, una, varrà, ok, ciao, allora, appena che me sento bene, che mi siedo bene. Anticipo di Coppa Italia, domani a Pisa la squadra toscana affronterà... Anticipo di Coppa Italia, domani sera a Pisa la squadra toscana affronterà il Foggia per il passaggio al terzo turno, diretta su Italia 1 con inizio alle 20.25. Passando in casa del Verona va detto che oggi i gialloblu hanno ripreso la preparazione in vista della gara di ritorno con il Pisa al Orco Dio con il Pisa. Vaffanculo! Io che ho con il Pisa, con il Brescia? Dai! Vado per qualche minuto alla recita, davanti agli otto delle nozze dell'Ordine e le quali tutti avrebbero apprezzato un atteggiamento meno tollerante. Beh, cosa c'entra sto cazzo che mi fate sentire? Se per favore, quando... Io so, ho sentito tutto che era in studio l'audio che c'era di lì. Non c'è, non c'è, non c'è, non può fare questa macchina. Devo mettere in difficoltà qui un po'. Ehi! Ci ha dato i titoli di Crowder e Grey. Sì, avremmoci. Non di Marcelletti. E che ne so, mi metti i Marcelletti adesso, ostia? E quindi... A meno che non che... Non ci sono interpretati, ci vediamo. Allora metti solo Marcelletti. Sempre il massimo. Ma cosa? L'avete messo Marcelletti? E allora bisogna metterlo, ostia? La giusta intesa. Ma... Eccoli qua dove sono? Mi piace giocare qui. Sì, sì, vabbè, vabbè. Il Green Volley è stato anche un motivo di incontro tra la gente che ha partecipato numerosa alla tradizionale festa dell'amicizia. TG Sport è così terminato. Grazie per averci... Porco Dio! TG Sport cosa c'entra? TG Sport è così terminato. Dai! Dai, dammi il coso lì, dai! Dai! Bene, per lo sport è tutto. La parola torna a Simonetta Chesini.